Un giorno ci guiderai. Lascia che la paura ti sproni a lavorare duro, a prepararti. Così quando arriverà il momento, sarai pronto. Firenze ha prosperato in tutti questi anni sotto la guida della mia famiglia. Ho ucciso un uomo oggi. Ho visto la vita spegnersi nei suoi occhi. Tutto ciò che quell'uomo poteva diventare scomparso per sempre. Un grande uomo fa del bene, Lorenzo, e tu devi farlo ed essere buono. Se vogliamo giustizia, dobbiamo trattare gli altri con giustizia. Perché mio padre è un uomo buono ed è un uomo d'onore, ma non è più a capo di questa banca. State pugnalando vostro padre alle spalle. Come fidarci di voi? Fidatevi di me perché vostro nipote ha aggredito mio fratello in strada oggi. Fidatevi di me perché io lo perdono. Dobbiamo lasciare le rivalità alle nostre spalle, signori miei. Per fare del bene, deve esserci il bene in noi.